Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi continua a lavorare per raggiungere il suo obiettivo, diventare il prossimo presidente della Repubblica. Dopo la candidatura ufficiale da parte di tutta la coalizione Berlusconi è sempre più convinto di potercela fare per il Quirinale. Dal vertice di Villa Grande è uscito il suo nome, con la richiesta esplicita di sciogliere la riserva. E come ha confermato anche Vittorio Sgarbi, prosegue l'attività di scouting, nonostante PD e M5S stiano continuando a chiedere al centrodestra di eliminare dal tavolo il nome del Cavaliere, condizione imprescindibile per trovare un accordo tra tutte le forze politiche. Se tutto il centrodestra mi sostiene, i voti poi usciranno, è questo il ragionamento del leader di Forza Italia, secondo quanto apprende l'Ancronos, dopo la riunione venerdì scorso, durante la quale ha incassato il sostegno di Salvini e Meloni. La cosiddetta, operazione Scoiattolo poggia sulla convinzione, Berlusconi pensa di poter essere eletto alla quarta votazione, sulla carta sono 450 i grandi elettori della coalizione. Nelle prime tre votazioni la maggioranza richiesta per essere eletti è pari ai due terzi dei componenti dell'Assemblea, in questi caso 671 voti. Dal quarto scrutinio il quorum ma si abbassa, per essere eletti, basta la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, pari a 504 voti. Per questo ogni voto in più è determinante. Il leader di Rinascimento e sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, ha illustrato in un'intervista al Corriere della Sera il suo metodo, che consiste nel chiamare uno ad uno tutti i parlamentari. Ci sono 110 anime perse che appartengono al gruppo misto, più una trentina di 5 stelle più che spaesati. In totale fa 140. Sgarbi si è offerto di fare da intermediario tra i peones e il cavaliere, una telefonata nella quale il deputato e il senatore chiacchiera per la prima volta con Berlusconi. Grazie a tutti.